Il futuro del centrodestra ha incontrato anche Berlusconi, si parla di questa federazione, addirittura Berlusconi di centro agosto dobbiamo partire, lei cosa ne pensa? Ma guardi, il tema di una federazione non riguarda, come ho più volte spiegato, Fratelli d'Italia, perché capisco che i partiti di centrodestra che sostengono la maggioranza di Draghi vogliano eventualmente mettere maggiormente in relazione il loro lavoro, ma non può coinvolgere Fratelli d'Italia che ha l'opposizione. Certamente io ho incontrato Berlusconi per capire all'indomani di alcune cose, francamente un po' irragionevoli che sono accadute, se da parte di Forza Italia in particolare, ma anche della Lega, ci sia ancora la volontà di immaginare la coalizione e l'unità del centrodestra come obiettivo da centrare per il 2023. Perché se qualcuno prende in considerazione l'ipotesi di andare avanti con le maggioranze arcobalene o anche in futuro e quindi non considera solo transitoria l'esperienza di Mario Draghi, per Fratelli d'Italia diventa un problema. Noi siamo sempre stati monogami, al governo ci andiamo solo col centrodestra, non ci andiamo col PD, non ci andiamo con i Cinque Stelle. Su questo io ho chiesto chiarezza. Mi pare che Berlusconi sia sulla stessa lunghezza donna, ma chiaramente da questo punto di vista ci aspettiamo segnali concreti.